Ci stiamo abituando ogni domenica a riportare in cronaca sul tabellino gol di Picci. Ecco tutti questi gol, la doppietta di oggi, quasi tripletta. Chi vuole dedicare questa prestazione? Sicuramente a tutti i miei compagni. Siamo un gruppo che stiamo affrontando, i compagni e lo staff. Siamo un gruppo che in mezzo a mille difficoltà conosciamo la situazione Trani. Questa squadra sul campo ha fatto 14 punti, penso che sia facendo un cammino incredibile. Affrontiamo settimana per settimana, lavoriamo con grande serietà, abbiamo un gruppo fantastico. Siamo molto inferiori sulla carta a parecchie squadre, però il campo per adesso sta dicendo altro. Sono orgoglioso dei miei compagni, sono orgoglioso di me e poi una piazza come Trani che sicuramente merita di più. Sono arrivato qui a Trani con un sogno, quello di vedere sempre più gente allo stadio e speriamo che questo si possa avverare. Quindi l'obiettivo di Picci anche quest'anno nella classifica dei marcatori qual è? C'è una cifra che hai in mente? Sono 16 anni, penso che far gol non mi deve insegnare nessuno. Sono un giocatore che sono 14 anni consecutivi che arriva a doppia cifra, non in queste categorie, in categorie superiori. Quindi penso che il gol ce l'ho nel sangue, non dormo la notte, ripeto, se non faccio gol. Oggi sono contentissimo della doppietta, ma ripeto, sono più contento della prestazione dei ragazzi contro un avversario difficile. E soprattutto dei tre punti, sono tre punti pesantissimi per noi, dopo una prestazione non felice in quel di Barletta.